Buonasera a tutti, benvenuti da parte del Salone del Libro. Sono Giovanna Milella, sono contenta di introdurre il quarto incontro del Salone 365, cioè del Salone che, oltre alla manifestazione di maggio all'ingotto, ogni mese offre non solo ai cittadini turinesi, ma anche ad altri che poi possono vedere questi incontri sul sito, o addirittura in streaming via internet in tutto il mondo, questo lavoro che sta facendo la Fondazione, che è coordinato da Marco Pautasso e che vede il lavoro di tutta la redazione per tutto l'anno. Ecco, è il quarto incontro e si è manifestato in due momenti oggi. Il primo momento è quello che si è verificato questa mattina in un luogo speciale, nel carcere di Saluzzo. Geoffrey Diver è andato insieme con la signora della Rizzoli, con il traduttore, ad un incontro veramente speciale con i detenuti, ma anche con gli ospiti che sono venuti da fuori, anche con le scolaresche che hanno seguito questo avvenimento e si sono anche preparate per questo momento, leggendo, informandosi sull'autore, cioè facendo quel lavoro che abitualmente viene fatto da Salone, che noi consideriamo la cosa più importante, perché abitua alla lettura, non solo all'incontro, ma anche proprio alla lettura del libro. E l'incontro diventa il momento proprio finale in cui si ha veramente delle cose da dire e da scambiarsi, vero Marco? Allora, io ringrazio Geoffrey Diver per essere venuto qui con noi, a Torino e a Saluzzo, è uno dei più grandi giallisti del mondo, e siamo felici di averlo qua e lascio subito la parola a Marco per presentarlo. Arrivederci. Grazie Presidente. Grazie, grazie a voi tutti. Come diceva la Presidente, questo è il quarto appuntamento della stagione autunnale del Salone Off 365. Voglio solo ricordare che cosa è. È un progetto di promozione del libro, della lettura, della cultura, che vede molti soggetti insieme, uniti insieme nell'obiettivo di allargare il più possibile il numero dei lettori. Ci sono, e lo vedete anche espresso dai loghi, ci sono le dieci circoscrizioni della città, perché cerchiamo nel limite del possibile di organizzare questi incontri in tutto il territorio urbano e, se possibile, anche della città metropolitana. Ci sono le biblioteche civiche torinesi, c'è la scuola Holden, che ci segue e ci aiuta, e oggi l'incontro vedrà le domande del gruppo di lettura che è stato creato all'interno della scuola. Ogni volta c'è anche una libreria indipendente, perché riteniamo importante anche supportare il lavoro preziosissimo delle tante librerie indipendenti che arricchiscono culturalmente le nostre città. E questa sera, forse l'avete visto entrando, la libreria che abbiamo coinvolto e che presenta e propone buona parte dei libri di Jeffrey, di Iver, è la libreria Terese di Corso Belgio. Allora, il Salone Off 365 ha questa peculiarità che ho già accennato. Non soltanto nella preparazione degli incontri, ma anche nella conduzione e presentazione degli incontri, il gruppo di lettura è l'interprete, il protagonista principale. Quindi questa sera le 13 domande più che sentirete sono state preparate dal gruppo di lettura particolare che si è creato qui all'interno della scuola Holden, grazie al lavoro del tutor Aaron Ariotti, che è il tutor del College Series, e anche con la collaborazione di Lucia Moisio. In più c'è un'altra persona che fa parte, insomma, degli amici del Salone del Libro, che si è unita per questo gruppo di lettura composito, ma molto appassionato. Allora, Jeffrey adesso si autopresenterà. A me tocca solo dire due cose rapidissime. Lo sapete, è uno dei più grandi, più importanti maestri del thriller, non solo statunitense. ha venduto oltre 30 milioni di coppie, credo sia una quarantina i libri che ha scritto. I suoi cicli li ricordiamo, da Lincoln Rhyme, che ha esordito con il collezionista di Ossa, che è stato anche un film importante con Denzel Washington, Angelina Jolie, e poi Catherine Dance, di cui tra l'altro nel 2015 con Solitude Creed è stato pubblicato in Italia, adesso anche l'ultimo libro. E poi la trilogia di Rune, che si chiude proprio con questo Art News, che è il libro che presenteremo questa sera. Gli altri due libri ricordati erano Nero Manhattan e Requiem per una porno star. Questo Art News è, come tutti i libri di Jeffrey Diven, è un libro avvincente, appassionante, dalla storia serratissima, che insomma mette insieme, racconta di presunti innocenti, di testimoni che vengono assassinati, di assassini che sono in libertà. Ma a mio avviso, ne abbiamo anche parlato stamane, ci fa riflettere su due temi. Cioè il ruolo della giustizia penale rispetto agli innocenti, che spesso vengono condannati, magari anche semplicemente per un circo mediatico che si crea, è appunto il ruolo che ha l'informazione nel raccontare, non sappiamo mai se in modo veritiero o meno, i fatti che accadono. Forse mi sono dilungato troppo, l'ha già detto la Presidente, questa mattina abbiamo vissuto un'esperienza, credo, molto emozionante, cioè quella di vedere, grazie a un libro, attorno in una sala, detenuti di un carcere e due classi di una scuola superiore di Saluzzo, che hanno lavorato insieme per incontrare questo autore. Credo che sia stata un'esperienza straordinaria e siamo felici che Jeffrey Diver abbia accettato di viverla con noi. Questo, voglio dire, è il quarto appuntamento, quinto compreso quello di Saluzzo, di questa breve tournée di Jeffrey Diver in Italia, è stato a Book City, è stato a Napoli, a Catanzaro, e sono due gli appuntamenti che ha dedicato al Piemonte e anche per questo lo ringrazio. Adesso gli cedo la parola e lui si autopresenterà. Grazie. Grazie a Marco e Giovanna e Martino, a Sebastiano, mio amico e translator, e a the Holden School e tutti a Torino. Meliora inglese. I will now spend about ten minutes, maybe a little more, in talking about my approach to writing books. I teach courses in America on writing, and this is a very, very succinct, distilled version of my course, but it will give you an idea of what I do. Scusa, ho dimenticato una cosa importante, l'ho fatto anche stamattina, e mi scusa, ho dimenticato di presentare Seba Pezzani, che è il traduttore del libro e da molti anni è l'interprete di Jeffrey Diver, nonché il suo amico. Chiedo scusa. Ah, nei prossimi dieci minuti, forse qualcosina in più, cercherò di spiegarvi quale sia il mio approccio alla scrittura. Negli Stati Uniti io tengo dei corsi di scrittura, e quello che sto per dirvi di fatto è una sorta di versione condensata del mio corso riguardo all'approccio che ho alla scrittura. Il grande scrittore inglese Somerset Maugham disse che ci sono tre regole fondamentali per la scrittura di un ottimo romanzo. Sfortunatamente nessuno le conosce. Non sono d'accordo, io penso che la scrittura possa essere insegnata e la si possa apprendere. Stasera vi racconterò come si scrive un libro, ma prima ci sono due precauzioni da seguire. La prima precauzione mi è stata insegnata da quello che fosse il mio più grande filosofo letteario di sempre, l'ispettore Callaghan, che disse un uomo deve conoscere i propri limiti. Stasera vi parlerò di quello che io scrivo, cioè del genere letterario che mi riguarda, ovvero la scrittura di romanzi commerciali, popolari, non certo del tipo di romanzo che scrive uno scrittore come Umberto Eco che hanno scritto personaggi come Italo Calvino e una lunga serie di altri autori da Proust in poi. Il mio genere è un genere popolare e commerciale. E la seconda precauzione che vi suggerisco è di tenere conto del fatto che qualunque cosa io vi dica stasera potrebbe rivelarsi assolutamente sbagliata. perché non c'è nulla di più soggettivo della scrittura e quello che funziona per me magari non funziona affatto per voi. Quando si scrive si apprendono tante cose io ho imparato tante cose da varie fonti diverse e poi ho cercato di metterle insieme di fonderle in quello che è la mia esperienza personale. Magari stasera dalle parole che vi dico non apprenderete nulla di utile forse apprenderete qualcosina una decina di cose utili ma io ve le voglio dire ugualmente per rappresentarvi quello che ha aiutato me nel continuare a scrivere nel corso degli anni. E dunque adesso come direbbero i politici in generale vi insegnerò come mi approccio io alla scrittura. Vi presenterò cinque o sei elementi diversi che sostanzialmente si svolgono in ordine cronologico rispetto al modo in cui io scrivo. Prima di tutto la filosofia della scrittura perché in effetti io ho una filosofia della scrittura ovvero che quello che io faccio è business non è arte. sono in partnership con il mio editore e di fatto quello che creo è un prodotto di consumo ho appena scoperto che questo era un arsenale in cui venivano prodotte armi bombe se ci pensate bene è un prodotto di consumo anche quello io lo so perché ho scritto di bombe varie bombe nel passato nel passato vi ripeto è un business non è esattamente una forma di arte particolarmente elevata ma se è un business bisogna avere un business plan un piano produttivo come qualunque prodotto di consumo se dovessi cercare un paragone nel mondo commerciale nei prodotti di consumo probabilmente farei questo tipo di confronto il mio business plan il mio piano d'azione in quello che faccio è il dentifricio alla menta non mi sembra che la gente quando sceglie un dentifricio preferisca quello al sapore di fegato o di sabbia oppure di aglio in sostanza questo significa solo che lavoro fortemente per dare al lettore quello che il lettore vuole per dargli un'esperienza eccitante al lettore piace una cosa cerco di darla al lettore non piace una cosa cerco di non dargliela forse starete pensando ma così tu svendi quello che fai ti commercializzi soltanto allora io vi rispondo con tre nomi Rembrandt Mozart Shakespeare tre nomi tre artisti che hanno prodotto intrattenimento di consumo che noi oggi consideriamo assolutamente arte non mi sto dicendo che dovete per forza scrivere qualcosa di semplice mi sto invece dicendo che dovete avere ben presente qual è il vostro pubblico che scriverà pensate per esempio all'Ulisse di James Joyce o al libro di David Foster Wallace l'arcobaleno della gravità di Pynchon la ricerca ti ho perduto sono autori che hanno scritto i loro libri rivolgendosi a un pubblico non molto vasto ma conoscendo benissimo di che pubblico si trattasse per cui per quel pubblico i libri che loro hanno scritto sono un po' quel dentifricio alla mente di cui vi parlavo prima c'è un prodotto esattamente costruito e pensato per loro tre punti la filosofia è un business secondo punto il piano di business in questo caso il dentifricio famoso al gusto di menta terzo un'idea che mette insieme business e filosofia dove prendo le idee? perché ricordo che sto scrivendo sui thriller commerciali di crime e ho sempre guardato un'idea che sottisca la commenta Mickey Spillane Mickey Spillane era un noir giallo di giallo di giallo in America e ha detto questo in un momento io cerco io cerco sempre di scrivere cose che in qualche modo abbiano a che fare con storie commerciali storie criminali commerciali per soddisfare quella massima di Mickey Spillane che è un grande autore di gialli americani che diceva questo la gente non legge un libro per arrivare solo a metà non iniziamo a leggere un libro con l'idea di arrivare fino a pagina 250 per poi abbandonare il libro perché è noioso invece io cerco sempre idee che spingano il lettore a essere coinvolto emotivamente fin dalla prima pagina anzi l'ideale sarebbe dalla prima riga e poi a sfilare attraverso le pagine velocemente fino alla fine un libro magari con un'idea che riguardi un argomento importante con della sostanza che faccia in modo che una volta che abbiamo messo da parte il libro perché abbiamo finito di leggerlo quel libro rimanga con noi e ci regali qualcosa di profondo idee che mi consentono di scrivere di inventarmi di creare dei personaggi che siano reali che siano vivi che davvero ci dicano qualcosa sia che si tratti di personaggi positivi che negativi per esempio prendiamo quest'ultimo libro Hard News di cui parleremo più a lungo in seguito il tema centrale quello che caratterizza è una domanda essenziale cioè questo prigioniero protagonista che potrebbe essere innocente o meno non lo sappiamo verrà ucciso in carcia anche questo non lo sappiamo c'è un tema importante alla base di questa domanda come ha sottolineato Marco in precedenza la responsabilità del giornalismo e la responsabilità del sistema di giustizia penale ci sono personaggi molto forti molto interessanti a cui ci affezioniamo naturalmente c'è Rune ma c'è anche Randy Boggs che è un personaggio carismatico non sappiamo bene se sia o non sia un personaggio positivo o negativo c'è anche l'anchor woman la presentatrice del canale televisivo che a sua volta è molto carismatica è molto tosta questa è una classica idea di un romanzo alla Diver come ne ho scritti tanti c'è la filosofia della scrittura c'è il business c'è l'idea e quattro c'è la struttura del romanzo io costruisco attentamente la struttura l'architrave di ogni romanzo che scrivo molti di voi sono scrittori e voi agree with me that the world is divided into two sorts of writers those who plan the book ahead of time and those who do not molti di voi sono scrittori per cui converrete con me che il mondo della scrittura si divide in due ci sono gli scrittori che costruiscono preventivamente pianificano il proprio libro e altri che non lo fanno Gustave Flaubert disse che i libri non si fanno come si fanno i bambini lui diceva che i libri si fanno come le piramidi quindi pianificando progettando attraverso diagrammi disegni piazzando collocando con attenzione con scrupolo una pietra su un'altra finché l'edificio è completo George R.R. Martin che scritta la saga di Game of Thrones ha detto che i libri non sono scrittori come le bambini architekturali sono scoperte ma sono scoperte come una flora si tratta si tratta la sede e lo nutture ma non sai cosa si tratta J.R.R. Martin che è lo scrittore della saga Tono di Spade invece ha detto questo che i libri non si costruiscono come un edificio i libri crescono e nascono come dei fiori li si pianta li si da amore li si cresce ma non si può mai sapere in quale direzione andranno a svilupparsi Io propendo per Flaubert ho l'ardire di paragonarmi a lui in qualche modo ma volevo solo dire che io sono un organizzatore e per otto mesi prima ancora di scrivere la prima parola del libro non faccio altro che pianificare progettare e costruire l'architrave del libro La struttura l'architrave di un romanzo può essere fatta in due modi naturalmente ci vuole una struttura ci vuole una preparazione analoga a quella di un brano di musica classica e l'altra cosa importante dello strutturare un libro è che farlo mi aiuta a decidermi mi dà la possibilità di capire se l'idea che ho per un romanzo possa davvero trasformarsi in romanzo oppure se non sia il caso di lasciar perdere e vedendo il libro in form quando sto una struttura di 20 o 30 pagi mi dà che magari non è una buona idea di scrivere e posso lanciare l'anima mentre costruendo costruendo un romanzo in questo modo magari preparando una scaletta del romanzo che possa essere anche di 120 pagine se non più a metà se mi rendo conto che l'idea non è buona che c'è qualcosa che non funziona posso gettarla quel lavoro che ho fatto se invece dovessi gettare centinaia di pagine che ho già scritto la faccenda sarebbe molto diversa più difficile una volta che la struttura è pronta a scrivere un gioco da ragazzi quasi mi accingo a farlo e lo faccio molto velocemente nel giro di due mesi posso scrivere tranquillamente 150.000 parole anche perché so benissimo dove intende andare a parare il mio romanzo and now we come to the final point so we have our philosophy we have our business plan we have our idea we have the outline we've structured the book and then we write it now we have one of the most important parts and this is this is typified by a comment by Ernest Hemingway who said this there are no great writers there are only great rewriters che disse questo non ci sono bravi scrittori ci sono solo bravi riscrittori I rewrite my books about 40 times I do half of those on the computer because that's very easy and I do half of them on paper because I do believe we process words differently and frankly in a better way on paper once those edits are done then the book goes to my publisher like my wonderful publisher Rizzoli here in Italy and out it goes into the hands of the world io arrivo a rivedere correggere si risistemare i miei romanzi anche 40 volte lo faccio prima sul computer perché mi risulta facile ma poi lo faccio anche sulla carta a mano perché ho la sensazione davvero che facendolo a mano in quel modo le cose siano diverse vengono viste in modo diverso e anche più accurate e solo a quel punto consegno il manoscritto a mio editore nel vostro caso nel caso italiano il mio fantastico editore Rizzoli da cui poi il libro finisce nelle mani dei lettori credo che meriti un applauso questa grazie Jeff allora adesso iniziamo la sequenza delle domande allora la prima la pone Angela Bernardoni buonasera dove ah allora è buona Hard News è ambientato a New York mentre lei è di Chicago come si riesce a descrivere così bene una città di adozione da farla diventare un elemento di narrazione come sarebbe cambiata questa storia se fosse stata ambientata in un'altra città si buona domanda la domanda è buona ma è molto importante in effetti stare sul posto trascorrere tempo sul posto se si vuole scrivere di quel posto per esempio I cheated voglio anche voglio farvi un esempio di una volta in cui ho barato ho scritto una cosa ambientata lungo un fiume impetuoso dove c'erano anche delle cascate davvero impetuose una scena molto eccitante e poi ho presentato il libro nei pressi della località in cui ho ambientato la scena e una signora mi ha avvicinato mi ha detto ma lei lo sa che questo fiume è secco da cent'anni questo libro in particolare doveva ambientarsi a New York perché New York era il centro del mondo dell'informazione quindi la maggior parte dei network con canali informativi erano lì e quindi non poteva essere ambientato altrove la prossima la pone Floriana Manciagli buonasera nel libro a un certo punto Rune sacrifica il suo rapporto con Cartney per la riuscita del servizio cosa ha dovuto sacrificare Jeffrey Diver per la sua carriera? quando tengo i miei corsi di scrittura dico sempre una cosa ai miei studenti volete scrivere un libro oppure volete condurre una vita da scrittori and it has taken a toll it certainly has I am on the road three months out of the year I spend a lot of time by myself talking to myself because that's the way the writing process works but it's a sacrifice I would gladly make over and over again because there is nothing in the world like connecting people through storytelling in effetti c'è un dazio da pagare una delle cose che devo fare ogni anno è starmene in viaggio perché per tre mesi all'anno io sono in giro per il mondo e trascorro molto tempo in solitudine molto tempo in cui parlo con me stesso perché è quello che succede quando si scrive però è un sacrificio che rifarei più e più volte perché non c'è nulla che al pari della scrittura mette in connessione le persone Adriano Pugno Salve Art News è un libro del 1991 leggendolo si ha la sensazione di leggere proprio un libro scritto nel 91 sull'attualità di quegli anni e non una storia scritta oggi ma ambientata in quegli anni che differenza c'è per uno scrittore tra ambientare una storia nel presente come era Art News del 91 e decidere scrivendola oggi di ambientarla vent'anni prima sì grazie grazie a te grazie a te grazie a te creare in my books a universality so that somebody in even fifty or a hundred years if my books are still around can pick it up and realize that what is being talked about is good versus evil heroism humor so that I don't really tie it too much to the topicality of the time sfere che possono scostarsi dal periodo e essere i più indipendenti. Anna Mazzucco. In Art News ho notato una particolare attenzione ai marchi delle cose, vestiti, gioielli. C'era in questo un intento sociologico oppure era una consuetudine descrittiva degli anni 90? In New York City in the 80s and 90s, when I was there, really suggested a lot of decadence and abundance and excess. And as I said in my earlier remarks about picking an idea, we need some substance to write about. And part of the substance is to be a social critic, like Samuel Pepys, the British essayist from years ago, to kind of poke a little bit at those false gods. Il mondo in cui ho ambientato queste storie, un mondo new yorkese degli anni 90 e 80, il periodo in cui ho vissuto in quella città, suggeriva una certa decadenza, un certo gusto per l'eccesso, una certa sovrabbondanza. Direi che l'idea stessa che sta alla base del libro in qualche maniera è indicativa, suggerisce una critica sociale, come per esempio il saggista inglese diversi anni fa, Samuel Pepys. Angela Bernardoni. Lei ha iniziato come giornalista e in questa scuola c'è un college che si occupa proprio di questo. Cos'è per lei la verità e qual è la giusta via di mezzo tra obiettività e ossessione? E può davvero il giornalismo aiutare al raggiungimento della verità o è più facile che agisca come contaminatore? Do you think that journalists really can get to the truth or that somehow manages to contaminate the truth? Si. Grazie. I believe that truth and obsession are not inconsistent. I think about the incident in the 1970s where Richard Nixon's re-election committee committed crimes that were uncovered by the obsessive activities of two very brilliant journalists, Woodward and Bernstein for the Washington Post. Credo che ossessione e verità possano convivere in qualche modo. Vi faccio un esempio pratico. Negli anni 70 per la rielezione di Richard Nixon, l'entourage commise dai crimini che vennero rivelati dall'attività in qualche maniera ossessiva di due fantastici giornalisti del Washington Post. Nicola Lozito. Sì, buonasera. La scorsa settimana abbiamo avuto Erika Jong qui, che ci ha svelato che il suo primo romanzo non è mai stato pubblicato perché l'editore ha detto che non voleva pubblicare un libro di una donna che avesse come protagonista un uomo. Quali sono i pro e i contro di avere un protagonista del sesso opposto? Come forse avrete capito io ho un approccio molto pratico alla scrittura, un approccio di lavoro quotidiano. Però se c'è un talento di cui io sono dotato è un'empatia e è molto facile per me di spettare nei panni di figure di diversa razza, diversa età, diversa storia. Però se c'è un talento di cui io sono dotato, una capacità di cui io sono dotato è l'empatia, cioè la mia capacità di mettermi nei panni di figure di diversa razza, diversa età, diverso sesso. Potrei tranquillamente anche immedesimarmi e anche molto facilmente con un terribile serial killer, assassino seriale. Anita Vicenzi. Hard News risale su Inizio, quindi ci chiedevamo come Inizio a pensare ai suoi personaggi, se è cambiato il suo modo di lavorare sui personaggi rispetto a quando ha scritto questo libro e quali sono i meccanismi narrativi che la portano a lavorare sui personaggi e a tenere quello che effettivamente troviamo nel libro e togliere quello che non troviamo poi nei romanzi. One of the things that's been very helpful for me is before I actually write the book is to write what I call a Bible or a biography of my characters and that is, I kind of imagine that they are applying for a job or writing a Facebook post and I write it down from their point of view. Una cosa che mi ha aiutato molto, prima di iniziare fisicamente a scrivere un libro, è cercare di creare una sorta di biografia dei miei personaggi, come se i miei personaggi dovessero autorappresentarsi in vista di una ricerca di lavoro, quindi di un colloquio di lavoro, oppure della preparazione della pagina personale, del profilo personale su Facebook, cosa che io scrivo fisicamente. Una cosa abbastanza interessante che succede con i personaggi è che quando ne creo uno, che magari in teoria dovrebbe morire a tre quarti del libro, ed in mano in mano che io scrivo questo personaggio, poi arriva un punto in cui improvvisamente questo personaggio inizia a risultarmi simpatico. E quindi cosa faccio? Lo tolgo da quel libro perché doveva morire, non voglio più che muoia, quindi gli salvo la vita e magari lo inserisco in un'altra storia. Per poterlo fare però dovete avere una conoscenza profonda del personaggio che state rappresentando. Ancora Anita Vicenzi. Quella di Rune è una trilogia e inoltre lei ha scritto anche il ciclo di John Pellam, di Catherine Dance e di Lincoln Rhyme. Questi sono tutti gli effetti dei personaggi che possono essere considerati seriali. Ci chiediamo quindi se si parte con l'idea di scrivere un racconto seriale o se lo si capisce a strada facendo. Un elemento di consiglio, se potrei dare, se vuoi essere un scritto commerciale, non parlando di scrittura, ma di scrittura, ma di scrittura che scrivo, i pubblicatori like serie, perché i pubblicatori like serie, they like Harry Potter, they like James Bond, they like to see and spend time with their friends again. Se posso darvi un consiglio, sempre che vogliate davvero essere degli scrittori commerciali come me, non autori di cosiddetta alta letteratura, gli editori piacciono i personaggi seriali, perché i lettori piacciono i personaggi seriali, i personaggi come James Bond o Harry Potter, personaggi con cui trascorrere tanto tempo. Se un libro è di piglio più scientifico, il protagonista sarà Lincoln Rimes. Se invece al centro c'è una psicologia, un aspetto della psicologia, il lato oscuro della mente sarà un libro con Catherine Dance, il protagonista. Ci sono dei libri che hanno delle caratteristiche tali per cui non si può fare altro che rappresentarli con una storia a sé stante. Il mio libro October List, per esempio, che inizia la domenica sera con il trentaseiesimo capitolo e poi procede al contrario, poteva solo essere un romanzo a sé stante. Grazie. La prossima domanda, da Pone Michele a Marocco. Salve. Dove trova i suoi spunti? Dagli altri suoi libri, soprattutto quelli del ciclo di Lincoln Rimes, si intuisce un grande lavoro di documentazione. Alla fine, leggendosi, ha sempre la sensazione di imparare qualcosa. Ci racconta tutto quello che c'è prima della scrittura? Faccio molta ricerca quando scrivo un libro perché i miei lettori vogliono sicuramente una storia eccitante, ma vogliono anche imparare qualcosa. Grazie a tutti. Due cose, qui sono in una scuola meravigliosa, ho messo la mia professora, due cose sull'esercizio. La prima regola molto importante è non mettere tutto nel libro. La risercizio dovrebbe solo aiutare a trasferire la storia o a farci sapere più sulle caratteristiche nel libro. Vi voglio dire due cose. In questo caso mi metto il cappello da insegnante, visto che siamo in una bellissima scuola di scrittura, e vi do due insegnamenti. Ricerca, ok, dovete fare ricerca, ma non dovete inserire tutto quello che cercate nel libro. La ricerca serve soltanto a far progredire la storia, farla andare avanti, e a farvi conoscere meglio i protagonisti. E il secondo suggerimento è questo, se proprio dovete inserire dei dati, fate in maniera che siano corretti. Ecco, vi faccio vedere cosa dice una lettera classica del mio fan. Caro signor Deaver, mi piace moltissimo il suo ultimo romanzo. Tuttavia, non posso fare a meno di notare che a pagina 195, lei parla del computer Pentium 287. Come lei sa, il Pentium 287 non è mai esistito, è esistito soltanto il Pentium 286. Magari lei l'ha scritto perché sotto c'è un indizio intelligente, però io non l'ho capito bene. Ovviamente ci verrebbe da dire, che palle con questi suggerimenti. Invece sapete cosa faccio, visto che di queste lettere non effettivamente ricevute, scrivo personalmente una lettera di scuse. perché per questo lettore il libro non è più l'esperienza che sarebbe dovuta essere, ma diventa un dentifricio all'aroma di fegato, di aglio o di sabbia. perché io ho sbagliato, non ho messo informazioni corrette. Samuele Lasagna In parte ha già risposto a questa domanda, ma in base a cosa decide di sviluppare dei personaggi e altri invece non approfondirli? Quando ha un personaggio che la convince, quando è che decide di portarlo avanti e quando capisce che invece va fatto morire? Si, in effetti ho in parte risposto a quella domanda, però facendomi questa domanda ancora mi dai l'opportunità di parlare ulteriormente di un aspetto importante. Il tipo di libri che scrivo, ma io penso poi in realtà ogni tipo di libro deve presentare conflitti al suo interno, deve avere muri di mattoni, come li definisco, o dissuasori, ostacoli che il protagonista debba per forza superare per rivelare a se stesso meglio e per mostrare com'è in grado di avere la meglio sulle difficoltà che la vita gli impone. Ovviamente uno di questi ostacoli è rappresentato dalla lotta, dal conflitto che c'è tra il bene e il male, soprattutto nel nostro caso, nella fattispecie, dalla polizia che deve risolvere un mistero. Nel caso di Lincoln Ryan, Lincoln Ryan deve mettere le mani sul cattivo di turno. Ma è altrettanto importante, è un conflitto diverso, quello che è insito nelle relazioni umane. Un'altra parte più commentata in uno dei miei libri non ha nulla a riguardo con il crimine, ma ha riguardo con la mia portata di una nuova moglie con la mia madre che stava soffrendo di Alzheimer e la sua struttura di capire con questo. Mi è capitato spesso di leggere commenti su una mia storia che non hanno a che fare con la trama diretta della mia storia o magari con il fatto che la madre della protagonista soffre di Alzheimer. La prossima domanda la fa Vittorio Poglieri. Allora, lei nel 2011 ha dato alle stampe per conto della Ian Fleming Publications l'ennesimo capitolo letterario della saga di James Bond, accendendo un dibattito sul fatto che un autore thriller dall'impronta tanto riconoscibile mettesse mano ad un'opera di genere spionistico che di fatto è diversa insomma da quelle per esempio della saga di Lincoln Rhyme però con la presenza di alcuni elementi cristallizzati e ricorrenti in tutte le opere della saga di Bond. Mi piacerebbe sapere come è stato lavorare con queste costrizioni e come si è avvicinato a un personaggio così radicato nella cultura pop. Grazie, grazie, buona domanda. I like challenges myself. I like to push myself a little bit, always looking for new ways to entertain my audience. In this particular case, because I had grown up reading James Bond from a very young age, I was delighted when they asked me to write the Bond, they're called continuation novels, just one, uno. A me piacciono le sfide. Mi piace sempre spingermi un po' al limite e cercare nuovi modi per intrattenere il lettore per cui considerato che da giovane sono praticamente cresciuto leggendo i romanzi di James Bond per me è stata una cosa fantastica quando mi è stato chiesto di scrivere il nuovo capitolo della saga. però è interessante. Ho detto alla famiglia quando mi chiesto di scrivere il nuovo capitolo della saga di James Bond. Ho detto, certo scriverò questo libro con piacere, però io sono capace di scrivere soltanto un classico romanzo alla Dever. perché se avete una certa familiarità con i libri di James Bond, non mi riferisco ai film, sapete bene che di colpi di scena e sorpresa non ce n'erano e che si capisce fin dall'inizio quali sono i buoni e quali sono i cattivi all'interno del romanzo. E questo non è quello che faccio. E la famiglia ha detto, no, no, noi conosciamo i tuoi romanzi molto bene. Quindi il mio novel, Carta Bianca, è un libro di James Bond con molti sorprese e torni e torni, e si muove molto veloce. Ma la famiglia mi ha detto, no, sappiamo bene quali sono i tuoi romanzi. Per cui Carta Bianca, che è il romanzo che ho scritto, Karl Blanche, ha un sacco di sorprese, colpi di scena e un passo velocissimo. La ragazza di che sto riuscendo ora è che sto pensando, ho legguto tutti i libri di nuovo, i libri di Ian Fleming, e in Goldfinger Ian Fleming ha due capitoli lunghi scritturando un 18-hole golf match tra Bond e Goldfinger. Non mi piace sport, per cominciare, non solo golf. E sto pensando, devo scrivere questo in Carte Blanche? Ma la famiglia ha detto, no, no, puoi scrivere un libro molto veloce. Ho detto i romanzi di Ian Fleming e in particolare in Goldfinger Ian Fleming per due capitoli non fa altro che descrive una partita golf da 18 buche tra Bond e Goldfinger e mi sono detto, visto che non ho nessun tipo di interesse e di passione per lo sport e meno che mai per il golf, ma davvero devo scrivere delle robe come queste. La famiglia fortunatamente mi ha detto, no, non preoccupate, scrivi pure un romanzo con il tuo passo, un romanzo classico tuo. Allora, l'ultima domanda del gruppo di lettura ed è una curiosità che credo ci accomuni tutti, la pone Nicola Slozzito. No, la pongo io. Ah, la fa Chiara, chiedo scusa. La domanda è come si fa a diventare scrittori miliardari. Oltre a diventare scrittori miliardari. Oh. Well, I will not say I'm a millionaire, except to the extent that more than about 40 million people have read my books. And the answer is very simple. The answer is actually very simple. a love of books and the way books connect people. If you follow that, if you have passion in your heart for storytelling, you will be successful. Maybe not a millionaire, but that doesn't matter. you will be a success. Applaus L'unica cosa che posso dire in termini di milioni come numeri è che una quarantina di milioni di persone hanno letto i miei libri. La risposta è molto semplice. L'amore per i libri. L'amore per il modo in cui i libri mettono in connessione le persone. Se voi avete passione per la scrittura, sicuramente avrete successo. Magari non diventerete miliardari, però successo lo avrete. Non abbiamo ancora concluso. Credo che ci sia ancora il tempo per qualche domanda. C'era il signore che voleva fare una domanda. Buongiorno, signor Deaver. Do you think that crime fiction, mystery fiction, and thriller fiction in America changed after 9-11? Because I made the same question to Joe Lansdale. And he told me years ago that in his opinion a lot of dark passages, a lot of dark ideas came out in his mind after 9-11. So it's a pleasure to me to put to you the same question. Thank you very much. Allora, signor Deaver, le vorrei fare questa domanda. Lei pensa che la narrativa di genere, i thriller, il noir siano cambiati dopo l'11 settembre? Perché questa domanda l'ho fatta a John Lansdale il quale mi ha risposto che probabilmente molti spunti cupi sono discesi da quegli eventi. Sì, and Joe happens to be a friend of both mine and Saber's here. And yes, certainly it did. It changed the fabric of America. And did so, I think, forever. Certainly true. Sì, tra l'altro John Lansdale è anche amico nostro, sia di Jeff che mio. In effetti è successo qualcosa dopo l'11 settembre. L'11 settembre ha cambiato il tessuto sociale in qualche modo degli Stati Uniti e l'ho fatto in maniera perenne. Ci sono ancora delle domande da parte del pubblico? Se può avvicinarsi solo. Ah, ce l'ho, perfetto. Grazie. No, sono curioso di una cosa. Molto spesso tanti libri, tanti buoni libri non diventano dei grandi film. Ma nel caso di Diver molti dei suoi libri sono diventati grandi film. Io mi chiedo se lui è partito scrivendoli con quell'obiettivo e se lo ha fatto quali possono essere gli accorgimenti per rendere un grande libro. Poi ripeto la seconda parte della domanda dopo che ha detto che molti libri suoi sono diventati dei buoni film. Però ho perso proprio la... Allora, riprendo. molti buoni libri non sempre sono dei grandi film. Nel caso di Diver i suoi libri sono spesso diventati dei grandi film. Mi chiedo se era solo casuale o se lui è partito scrivendo quei libri con l'intenzione di farli diventare dei grandi film. E se lo ha fatto, quali sono gli accorgimenti per rendere, per far diventare un libro un grande film? Sì, sì, grazie. Non ho mai pensato che qualcosa diventare un film. C'è tanto successo e chance con questo. Ma perché ho stato molto influenzato dal cinema, da un'ora molto vecchia, i miei libri tendono a essere molto cinematografici in struttura e in pace. con la trasposizione cinematografica di un romanzo ci vuole grande fortuna e c'è anche molta casualità per cui quando scrivo un romanzo non penso mai in termini cinematografici di quello che potrebbe essere un film che ne derivi. Però siccome sono stato molto influenzato dal cinema fin da una giovane età, i miei romanzi hanno comunque un passo, una struttura molto cinematografica. E questo dipende dal fatto che il cinema ha avuto su di me la stessa influenza che hanno avuto i libri. C'è ancora qualche domanda? Mi pare che non si alzino più mani. Ah, c'è ancora una, sì. In un'ora in cui molti autori sentono che bisogna mettere un po' di sesso gratuita e violenza di sangue extra, c'è qualcosa dentro il tuo sistema valore o nella tua famiglia che ti mantiene da andare a queste estenze per cercare di ottenere le lettere? In un periodo in cui molti scrittori inseriscono nei propri romanzi tanta violenza, tanta violenza grafica e scene di sesso, c'è qualche cosa che attiene alla sua sfera familiare, al suo passato, che la spinge a non utilizzare quel tipo di espediente per guadagnarsi maggiori lettori? Sì, è un'ottima domanda, e devo dire che è una domanda che mi riguarda strettamente. intanto che lo dico mi guardo in giro per vedere che non ci siano bambini in sala. Mi trovavo in un tour promozionale dei miei libri in Sudafrica e alla fine dell'incontro una giovane donna mi ha avvicinato e mi ha detto, signor Diva, avevo una domanda per lei, ma il sesso dov'è nei suoi libri? Anzi, lei veramente ha detto il sesso dov'è, punto di domanda, e io ho risposto, adesso non ho tempo, scusi. Ovviamente lei si riferiva ai libri. non ho risposto, non ho risposto, non ho risposto, se vuoi. È una domanda, per me, dell'integrazione artista. Penso che scusi come questi non sono scusiasti, sono scusiasti, ma sono scusiasti per cercare sensazione, quando il creatore non spende il tempo per creare scusiasti scusiasti. Non sto facendo un giudizio di tipo morale. Uno può scrivere quello che vuole, si possono scrivere scene di grande violenza e sangue, anche con grande profusione di sangue, scene di sesso sordide. Le mie perplessità sono di natura artistica, non etica. Non credo che ci sia nessun tipo di suspense in quelle scene, in scene di quel tipo. Credo semplicemente che si tratti di un tentativo sensazionalistico, se non di un tentativo di basso livello da parte dell'autore, quando l'autore non mette sufficiente impegno nel creare quella suspense che è necessaria, invece. Credo che l'esempio classico sia rappresentato da Alfred Hitchcock. Off camera, sex, extreme violence, non abbiamo visto nessuno, ma ha creato un suspense come nessuno altro potrebbe. credo che l'esempio classico sia rappresentato da Alfred Hitchcock. Non vi sarà mai capitato di vedere una scena di violenza effettiva o di sesso in uno dei suoi film, ma attraverso la suspense che creava la sensazione forte di qualcosa che stava succedendo c'era. Se non ci sono più un'ultimissima domanda... Faccio prima io. La mia domanda è sulla costruzione proprio del personaggio di Lincoln Rhyme. È voluto il fatto che lui sia comunque costretto a letto per mettere in risalto che una mente può funzionare benissimo anche senza un corpo che non funziona? Sì, esatto. Ti dirò come è venuto. Ricordi che voglio la mia menta e voglio tutti, i miei lettori, di divertire una storia. E parte di questo è vedere qualcosa nuovo, qualcosa che non è un cliché. volevo qualcosa che al lettore potesse piacere. Magari qualcosa anche di nuovo. ricordi a un film di action film recentemente, un film di Tom Cruise o un film di Bruce Willis e all'inizio di questo film i hero, Tom Cruise o Bruce Willis sono sul giro e il villano, un grande villano è su di lui spingando, 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 il film Provate a pensare a un film d'azione classico anche recente, uno di quelli con Tom Cruise o Bruce Willis che sul finale vede l'eroe, cioè Tom Cruise o Bruce Willis per terra e sopra di lui c'è il cattivo di turno che è un omaccione che lo sta pestando di brutto. Qualcuno di voi per caso ha il minimo dubbio sul fatto che all'improvviso Tom Cruise o Bruce Willis trovino una riserva ulteriore di energia per risollevarsi e menare di brutto a loro volta e sconfiggere il cattivo? E malgrado i rumori siano fortissimi, gli effetti sonori, la musica spacchi le orecchie e inevitabilmente Bruce Willis o Tom Cruise vengono sbattuti con violenza contro qualche cosa che contiene degli oggetti di vetro che si frantumano. Qualcuno di voi ha dubbio su come andrà a finire la scena? Non è noiosa una scena come quella? so I wanted so I wanted to create a hero that couldn't do that there's no way Lincoln Rime can suddenly realize he remembers karate he has to outthink the villain because I think that's what we all are maybe some people here know karate I don't I don't if a bad guy comes up to me I turn and run but I can maybe outthink him we can all use our minds in life and that's what I wanted Lincoln Rime to be a hero for all of us io non volevo un personaggio come quello in effetti Lincoln Rime non ha la possibilità a un certo momento di ricordarsi le lezioni di karate che ha preso e di conseguenza deve avere la meglio sul cattivo di turno attraverso il ragionamento perché secondo me noi siamo tutti dei Lincoln Rime in qualche modo io per esempio magari voi qualcuno di voi lo saprà fare io non conosco una sola mossa di karate se incontro qualcuno che me le vuole menare mi giro dall'altra parte e scappo però magari sono in grado di pensarla meglio di lui di essere di avere un ragionamento più fine di quel personaggio ecco credo che tutti noi in qualche modo veniamo rappresentati da quel personaggio allora credo che possiamo porre fine a questo incontro oggi abbiamo applausi oggi abbiamo davvero approfittato della generosità di Jeffrey Diveri e di Seba Pezzani con due appuntamenti quindi li ringrazio veramente di cuore per la loro sensibilità e per l'impegno che hanno messo nel seguirci in questi due appuntamenti ringrazio anche la casa editrice Rizzoli che ci ha accompagnato in questa avventura ringrazio il gruppo di lettura della scuola Holden e la scuola Holden che ci ha ospitato in questa location meravigliosa ricordo per chi lo desidera che la libreria Terese vende i libri non soltanto Art News ma anche gli altri libri di Jeffrey Diver che se volete potete compilare un foglio all'ingresso che vi consente di essere informati con la nostra newsletter di tutte le iniziative del Salone del Libro e quindi non soltanto dei cinque giorni del Salone credo che Jeffrey sarà contento di firmare qualche coppia sì allora oltre che ringraziare te e tutta l'organizzazione dell'evento voi per essere stati qui anche a nome di Jeff e volevo dire che se venite prima da me vi metto il nome vostro sulla pagina con il titolo in maniera tale che Jeff ve lo possa dedicare personalmente grazie a tutti e grazie a Jeffrey Diver soprattutto grazie a lei grazie a lei grazie a lei grazie a lei